Motocicleta Motocicleta Mi costa una vita Per niente da dare O il tuo è malato E so che guarire Non dire no 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 E so che è la mia E che ci posso Io sono disperato Per cui Perché ti voglio amare Stanotte, adesso, sì, mi basta tempo di morire A me c'è braccia così Domani puoi dimenticare domani ma adesso dimmi di sì Non dirò no, non dirò no Non dirò no, non dirò no Mi basta tempo di morire Non dirò no, non dirò no, non dirò no Domani puoi dimenticare domani ma adesso dimmi di sì O da 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 Non dire no, no Non dire no Non dire no Non so che abbinare E che ci posso fare Io sono un disperto Perché ti voglio amare Perché ti voglio amare Perché ti voglio amare Perché ti voglio amare Io sarò te adesso Sì Mi porto a tempo di morire Tra le braccia e tutti E le mani E le mani Mi porto a tempo di morire 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 Io sono un disperto Perché ti voglio amare Io sono un disperto Perché 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 Ti voglio amare Mi porto a tempo di morire Mi porto a tempo di morire Mi porto a tempo di morire Cioè ovviamente Parliamo a tutti coloro Che hanno voglia E desiderio di affrontarlo seriamente Quindi non tanto così Per passare un po' di tempo Ma per lavorarci sempre E la nostra intenzione Non voglio spiegare meglio La nostra intenzione È quella di lavorare Con qualcuno Che Eh Ha veramente Dimostrato Prima di tutto Di divertirsi Quassuna Sul palco Perché senz'altro Poi si divertirà E sarà anche una bella E sono Si vuole sapere il nome Io Sono una caustica Sono una caustica Sono una caustica E ecco E questo Ovviamente Simbolico Il premio per voi E Mi sembra Questo premio Poi Cioè ci sarà Tre registrazioni Due brani Studio Marista Dal tecnico del suono Giusto? Ecco Ma peraltro Questo Credo Il premio Deve questi due anni Certo Un disco Deve avere tutto La registrazione E la cooperazione Ah beh Indubriamente La registrazione Credo sia fondamentale Se no che il disco Ecco Senti quanto è che Ricorpimento pile E batterie Perché è il caso Ecco Perfetto Perfetto, grandioso. Grandi suona caustica, grandi applausi per loro. Possiamo andare con un secondo classificato. Florino, appunto, si riusciva presso l'indichetta discografica Tom Reckles, nostro grande guido. La registrazione, appunto, o meglio, lo studio di registrazione Malistar a disposizione. Il ricorso, la nostra musica, appunto, composizione musicale e psicologia. E tante applausi per i soldi a caustica trio. E poi, anzi, appunto, con la loro interpretazione. E tutti gli attivisti ottengono questo ottimo risultato. Questi ragazzi di orientini, eccoli. E mi sembra anche, sinceramente, un po' sempre. Vi lo devi fare, eh? Perché mi sembra, bella voce, giocaci. Sotto, diciamo, si riuscire a fare qualcosa. Eccoli lui. Oggi ci si emoziona sempre meno. Allora, entro a foto con loro, per i secondi. Beh, sono dovuto rinuncimento di musica mia e di questo ulteriore. Una bella, eh, soddisfazione per voi. Questa partecipazione. Questa partecipazione. Grazie.